Sono Fabio Camilli, Vice Presidente del Comitato Regionale Lazio della FIPA, Federazione Italiana e sono anche il delegato per il Sitting Volley. Il Sitting Volley è una palla a volo adattata, è uno sport per persone che hanno subito traumi o che per malattia non sono in grado di giocare a uno sport convenzionale e quindi si gioca a soliti a terra su un campo più piccolo, mantenendo le stesse regole della palla a volo convenzionale. Il Sitting Volley può essere giocato allo stesso maniere, con pari dignità, da persone normodotate e da persone con disabilità, perché questo è il nostro slogan, una volta seduti a terra siamo assolutamente uguali. Le società che aderiranno al nostro progetto verranno supportate con materiale, palloni, redi e campi. Pensiamo anche di coinvolgere, e questo è un altro punto importante del nostro progetto, le scuole, perché chiaramente abituare al concetto di inclusione i ragazzi fino dalle scuole elementari ci sembra la forma migliore per divulgare questa attività. Pensiamo anche all'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione per tecnici, per allenatori, per professori di attività motoria, per insegnanti di sostegno, cioè per tutte quelle categorie che abbiano a che fare con i ragazzi. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di voi. Scendete in campo con noi e con Together is Better, affinché ogni barriera di pensiero e limite fisico venga superata, grazie al Sitting Volley. Sostieni anche tu Together is Better, per consentirci di promuovere e realizzare una nuova idea di sport ancora più inclusiva. Visita il sito progetti.ognisportoltre.it e fai la tua donazione. Diversamente abili e normodotati insieme per giocare la partita della propria vita con il Sitting Volley. Grazie. Uno, due, tre, grazie. No. Grazie a tutti. No. 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 Grazie a tutti.